Tornano gli incontri pubblici seppur in videoconferenza per aderire al distretto rurale del Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni. A darne notizia il presidente del distretto Cono, Delia, che ha avviato la nuova azione anche al fine di essere pronti in vista dell'emanazione dei bandi per le risorse derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Delia, inoltre, invita tutti i portatori di interesse a partecipare agli incontri che si svolgeranno in videoconferenza suddivisi in appuntamenti distinti in cui si aprirà il confronto con gli enti pubblici e con le imprese del territorio. Il confronto pubblico riservato agli enti pubblici è previsto per il 12 febbraio alle ore 10.30, mentre per le imprese del territorio la videoconferenza è prevista per le ore 15.30. A conclusione della serie di incontri programmati è prevista la riunione del 23 febbraio 2022 alle ore 10.30, nella quale si procederà alla condivisione del piano di distretto. Gli enti e le imprese interessate ad aderire al distretto rurale potranno farlo inviando la propria candidatura entro il 22 febbraio prossimo o tramite PEC oppure direttamente a mano presso la sede dell'ente. Vogliamo intercettare, ha spiegato il presidente Cono D'Elia, tutte le opportunità offerte dal Piano Nazionale di Riprese e Resilienza che ha la missione Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica nell'ambito dell'economia circolare e agricoltura sostenibile individua contratti di distretto e di filiera quali soggetti destinatari delle misure previste. Un'occasione imperdibile per lo sviluppo territoriale dell'intera area protetta.